Ci sono persone che preferiscono ascoltare se stesse, piuttosto che ascoltare le parole degli altri. Sono persone che non si mettono in mostra molto spesso, ma quando lo fanno, ci ricordano che quando decidi di scendere in pista, anche se qualcuno può dubitare di te, parole come non posso, non ci riesco o è impossibile, non esistono e ci ricordano tutte le volte di continuare a credere che impossible is nothing. Grazie a tutti.